Siamo arrivati con la nostra informazione in apertura alla cronaca, appena da confermare per Gabriele De Filippi e Roberto Obert, già condannati dal Tribunale di Ivrea rispettivamente a 30 e 19 anni di carcere per l'omicidio di Gloria Rosbock, l'insegnante di Castellamonte, piccolo comune del Canavese, scomparsa nel gennaio del 2016 e ritrovata poi cadavere il 19 febbraio successivo nella cisterna di una discarica abbandonata, a poche centinaia di metri dall'abitazione della donna. Lo ha chiesto il sostituto procuratore generale di Torino, Sabrina Noce, alla Corte d'Assise di Appello, dove il processo si avvia alle battute finali. Quello della Rosbock fu un delitto allucinante, premeditato secondo gli inquirenti nei minimi particolari. L'insegnante, l'anno prima della sua uccisione per strangolamento, aveva denunciato Gabriele De Filippi, suo ex allievo, che fingendosi innamorato di lei e promettendole un futuro insieme in Costa Azzurra, si era fatto consegnare la somma di 187 mila euro che rappresentavano tutti i risparmi della famiglia Rosbock. Si occupano di un anziano non autosufficiente e lo alleggeriscono. Dei suoi risparmi sono accusati di circonvenzione di incapace. Emma Camagna Lui, un pensionato di Acqui, classe 1929, durante una vita di lavori e di risparmi, aveva messo da parte un tesoretto. Loro, gli inquisiti, la polacca Danuta Koch di Visone, Domenico Pellegrino di Alessandria e Francesco Marella di Sesto San Giovanni, fra il marzo 2011 e il novembre 2014, l'avrebbero alleggerito di oltre 360 mila euro. Sono sotto accusa per circonvenzione di incapace. L'uomo, infatti, anche se non interdetto o inabilitato, era in stato di infermità e deficienza psichica. I tre finiti nei guai dopo un'indagine della finanza su denuncia dei familiari dell'uomo che necessitava di continua assistenza, hanno agita l'insaputa l'uno dell'altro perché manco si conoscevano. Ma tutti hanno operato periodicamente e sistematicamente a danno dell'anziano e a favore delle proprie tasche. Questa è l'accusa. A farla parte del leone la donna che si è fatta consegnare 100 assegni per quasi 230 mila euro. Pellegrino se ne è fatti dare 22 per quasi 104 mila euro. Marella si è accontentato di 12 assegni per 26 mila 500 euro. Erano quattrine del tesoretto depositato su un conto corrente bancario dall'anziano a quese. Marella, sicura di non aver intascato neppure un euro, si limitava a fare un favore a un'amica, che a sua volta si occupava del raggirato, cambiandole una serie di assegni. Al momento non si conosce la difesa degli altri. 11 lavoratrici in nero, di cui 9 senza regolare permesso di soggiorno e due addetti alla sicurezza. Non iscritti all'albo prefettizio, il bilancio di un'operazione condotta dal comando carabinieri per la tutela del lavoro e dell'ispettorato del lavoro di Asti e Alessandria, che hanno denunciato l'amministratore della società che gestisce un noto nightclub della provincia di Alessandria. Quasi tutte le ragazze arrivavano in Italia con un visto turistico per poi lavorare in nero nel locale in qualità di figuranti di sala. L'attività all'interno del nightclub è stata sospesa e l'amministratore è stato condannato a pagare pesanti sanzioni. Sono infatti state riscontrate ammende e violazioni amministrative pari a 44 mila euro e contributi non pagati per 7 mila euro. Camminava con un bastone per ciechi e si faceva accompagnare da un cane, ma di fatto al bar leggeva il giornale e controllava il suo cellulare. Per giunta su un noto social network aveva anche un profilo sul quale era solito postare foto che lo ritraevano in attività normali come tagliare assi di legno con un seghetto. Tanto è bastato per spingere qualcuno a fare una segnalazione alla Guardia di Finanza di Torino, che dopo le indagini del caso ha denunciato per truffa ai danni dell'Inps un sessantennio originario di Agrigento, ma residente nel Torinese, che secondo le indagini avrebbe percepito indebitamente la somma di 30 mila euro. L'uomo rischia fino a due anni di carcere. Una delegazione formata da una ventina di lavoratori della Pernigotti di Novi Ligure questa mattina si è recata a Milano per un presidio davanti alla sede degli uffici commerciali dell'azienda. Dopo tutto questo tempo, ha commentato all'Ansa Piero Frescucci della UIL, è necessario un confronto diretto con la proprietà anche per sapere come mai non siano ancora arrivati a nuovi advisor e cedolini del mese di novembre. Gli stipendi invece sono stati regolarmente versati. La segreteria regionale piemontese della sigla sindacale Orsa ha proclamato uno sciopero del personale di Trenitalia domenica 16 dicembre dalle ore 9 alle ore 17. La stensione sarà attiva nelle regioni del Piemonte e della Valle d'Aosta. Non si escludono disagi per chi viaggerà in treno. È la prima bottega solidale italiana all'interno delle mura di un carcere. Si trova ad Alessandria dove il Don Soria ha aperto il suo portone per far nascere una nuova speranza. Per la prima volta nella storia d'Italia, il portone di un carcere non si apre per far entrare i detenuti ma per creare un'occasione di riscatto sociale. È così che è nata la prima bottega carceraria ad Alessandria all'interno del reclusorio Don Soria, eretto nel bel mezzo della città più di 170 anni fa, dove si trovano più che altro reclusi con condanne non particolarmente lunghe, a differenza dell'accorpato San Michele dove invece si scontano pene fino all'ergastolo. Questa bottega solidale vuole essere una forma di dignità e di recupero ma soprattutto un modo per far conoscere ai cittadini la vita del carcere e la voglia di andare avanti, lasciandosi il più possibile alle spalle un passato tumultuoso e negativo. All'interno del negozio di Piazza Don Soria per il momento si vendono oggetti di legno realizzati all'interno di un laboratorio carcerario grazie a un progetto con Social Hub avviato già tre anni fa. Il materiale usato è il pallet grazie a un accordo con una società che lo ricicla. Nella bottega poi si possono trovare prodotti alimentari forniti da diverse associazioni e cooperative che prestano la loro opera all'interno dei reclusori compresi anche alimenti per celiaci. Ma come ha sottolineato il direttore del San Michele del Don Soria Elena Lombardi Vallauri in programma c'è anche la vendita di pane e grissini che vengono prodotti in carcere e poi le verdure coltivate nel Grande Orto e nelle serre del San Michele. Tanti partner che ruotano attorno a questo progetto l'ASL, il Centro Down di Alessandria e la Cooperativa Sociale Kepos. Al taglio del nastro c'erano molte autorità ma soprattutto tanti alessandrini. Dopo il discorso del direttore del carcere si esibita la compagnia teatrale e gli illegali formata da detenuti che ha presentato l'APS e favole napoletane. Un'importante iniziativa che si pone anche l'obiettivo di far diminuire l'alta percentuale di recidiva in Italia dove il 70% di chi entra per la prima volta in carcere poi commette nuovamente un reato. Ci occupiamo adesso di un'altra iniziativa solidale legata questa volta agli studenti in difficoltà e alla lotta alla povertà educativa. Sentiamo Alessandra Dallacan. Saranno circa 30.000 i quaderni suddivisi in sette differenti tipologie che saranno distribuiti a breve negli istituti scolastici della provincia di Alessandria sulla base delle indicazioni dell'ufficio scolastico regionale. Si tratta dei quaderni solidali che sosterranno l'istruzione degli studenti di tutte le scuole dalle primarie alle secondarie di primo e secondo grado. L'iniziativa, giunta alla sua terza edizione e voluta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e dalla Fondazione Soli dal Onlus, si chiama Un Quaderno per te. Un piccolo, grande sostegno contro la povertà educativa. La distribuzione sarà gestita dai servizi caritativi promossi dalla Caritas Diocesana di Alessandria diretta da Giampaolo Mortara e sarà cura degli insegnanti consegnare in modo riservato i quaderni agli studenti che ne avranno più bisogno. Non possiamo che essere soddisfatti, ha sottolineato Pierangelo Taverna, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, per il carattere di continuità che questo progetto ha assunto nel tempo. La solidarietà, in questo caso nei confronti degli studenti, ha un significato importante. Il contrasto alla povertà educativa è un impegno che la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, ha detto ancora Taverna, si è presa in carico, con grande senso di responsabilità e investendo importanti risorse per i giovani del nostro territorio, in sinergia con l'Associazione delle Fondazioni e Cassa di Risparmio Italiane, le istituzioni e le organizzazioni del terzo settore. Il nostro è un dono semplice, quasi scontato, ha aggiunto Antonio Maconi, presidente della Fondazione Soli dal Onlus, ma indispensabile per la quotidiana attività scolastica di un alunno. Ha un valore modesto, ma rappresenta un onere aggiuntivo per qualsiasi famiglia che versi in difficoltà economiche. Per il suo impegno a favore del rilancio del Parco Villa Gabrielli di Ovada, l'organista Federico Borsari sarà insignito il 18 dicembre del riconoscimento ovadese dell'anno, che è giunto alla sua 37esima edizione. Le anticipazioni di Fabrizio Mattana. Sarà Federico Borsari, l'ovadese dell'anno 2018. La scelta, operata da un'accordata commissione, che ha tenuto però presenti i suggerimenti dei cittadini, è stata dettata dall'impegno del musicista e critico d'arte a favore del rilancio del Parco di Villa Gabrielli, promuovendo iniziative in collaborazione con le associazioni Vela e Cigno nell'ambito del progetto Coltiviamo il benessere a favore dei malati oncologici. Borsari si era fortemente adoperato anche per l'organizzazione di un grande concerto di musica rock, con la partecipazione di musicisti di alto livello, come David Jackson e John Hackett, dei Genesis, realizzato per raccogliere fondi per il restyling del polmone verde di Via Carducci, candidato come luogo del cuore FAI, per cui da pochi giorni si è conclusa la votazione che ha impegnato tanti cittadini ovadesi e che ora attendono fiduciosi i risultati. Per l'occasione è stato fondato il gruppo FAI di Ovada, fortemente voluto da Borsari, che si è occupato anche dell'organizzazione di visite guidate, affiancando gli studenti ciceroni, dei distrutti superiori cittadini, e recentemente della cena concerto svolgersi all'outlet di Serravalle, il cui ricavato è stato devoluto per la riparazione dei danni causati il 29 ottobre scorso dal maltempo al parco. Per tutto questo, il prossimo 18 dicembre, nel corso di una serata al Teatro Splendor, gli sarà conferita l'Ancora d'Argento, premio all'Ovalese dell'anno, giunto alla 37esima edizione, non dimenticando però la sua principale attività in campo musicale, soprattutto organistica, per cui ha creato un sito internet unico in Italia, ha curato il restyling di organi storici, parallelamente alla composizione di opere organistiche interpretate fra l'altro da artisti internazionali e incise in un CD presentato addirittura a Roma presso la Basilica di San Paolo fuori le mura. Benedetta Parodi ha presentato a Palazzo Monferrato ad Alessandria il suo ultimo libro strenna dal titolo A pranzo da me. Si tratta di 150 ricette che raccontano una cucina semplice e accessibile a tutti. Alla cara zia Mimma che cucinava senza ricette e lavorava maglia senza modelli perché tutto si è giusto se si accetta la vita con entusiasmo. E questa la dedica che Benedetta Parodi ha scritto nella pagina iniziale del suo ultimo libro A pranzo da me, presentato da Davide Balsecchi in un affollato palazzo del Monferrato ad Alessandria dove lei è nata e dove ogni volta torna con entusiasmo. 150 ricette raccolte in un volume che parla di semplicità ma allo stesso tempo di fantasia e di ricerca per proporre piatti gustosi e di grande effetto. A pranzo da me, si che è il mio ultimo libro, è un libro che è nato non in seguito a un programma televisivo, è nato proprio a casa mia in cucina ed è un po' il modo in cui mangiamo noi tutti i giorni. Quindi anche le ricette diciamo non sono proprio equilibrate lo stesso numero di primi, di secondi, di dolci. E' come mangiamo noi, ci sono tante verdure, vellutate, torte semplici, insomma è un po' come entrare a casa mia. Si direbbe dunque una cucina casalinga che però porta sia gli appassionati che i neofiti a scoprire abbinamenti, colori e sapori sapientemente accostati. Va riegato come sempre il panorama degli ingredienti e delle portate che spaziano dall'antipasta al dolce ma che a differenza di altri libri della parodi questa volta sono raccolti per ingredienti. Chi viene a pranzo da me lo sa bene, scrive ancora l'autrice, mi piace sperimentare sempre piatti diversi mettendo a disposizione tutta la mia fantasia e la curiosità. E' il bello della cucina, non solo quando si ha tempo perché accostare due consistenze differenti o due colori che stanno bene insieme può rendere speciale anche un semplice piatto di purè e formaggi. Si dice che in cucina, come nell'arte, ognuno di noi esprime se stesso e che ciò che creiamo non è altro che la proiezione di quello che abbiamo dentro. Benedetta Parodi, oggi alla guida di Backoff Italia, è una donna che negli anni è riuscita a conservare la sua naturalità ma soprattutto un entusiasmo che trasmette in ogni cosa che fa rendendo il lettore partecipe di un'arte culinaria accessibile a tutti. Prosegue tra poco il cammino della Juventus in Champions League siamo quasi alla pagina sportiva alle 21, gara di ritorno a Berna contro gli Young Boys finita all'andata per tre reti a zero obiettivo di Massimiliano Allegri è quello di essere in testa al girone giocherà Cristiano Ronaldo che nella partita di andata invece era squalificato turno infrasettimanale per la serie C l'Alessandria Calcio affronterà tra poco anche lei alle 20.30 alle Moccagatta il Novara dopo la buona prestazione ad Arezzo gli uomini di Mister D'Agostino cercheranno di ripetersi anche in casa tra poco nel sport curato come sempre da Fabrizio Mattana parleremo invece dei campionati di basket e poi le previsioni del tempo grazie come sempre per averci seguiti arrivederci grazie a tutti grazie a tutti